Sportello del Cittadino dedicato allo Sportello Universo Donna, un'iniziativa dell'Associazione Stella Maris. Eccoci in compagnia di Gianna Cavallo, responsabile del settore Servizi Sociali e Pari Opportunità dell'Associazione Inoggetto. Gianna Cavallo, è importante comunicare in quest'ottica la creazione di un blog, la nascita di un blog? Sì, è importante comunicare e arrivare dappertutto. Noi stiamo cercando di pubblicizzare quanto più possibile lo Sportello Universo Donna, affinché le donne bisognose di aiuto, di un conforto, possano comunque raggiungerci. E oggi diventiamo tecnologici grazie all'aiuto della dottoressa Manuela Scarano, che è la persona che cura per la Stella Maris il blog. Dottoressa Manuela Scarano, sottolineavamo l'importanza della comunicazione. Le sue idee, il suo modus operandi per organizzare questo blog? Il blog è una piattaforma importante attraverso la quale far comprendere e conoscere l'attività dell'Associazione Stella Maris, anche perché, diciamo la verità, ne esistono moltissime di associazioni Stella Maris, però la nostra si differenzia per la volontà di operare sia sul profilo sociale, quindi per quanto riguarda la tutela della donna, che culturale. Infatti all'interno del blog, man mano che sarà ingrandito e ancora di più curato e arricchito con informazioni, sarà possibile capire che l'associazione si occupa anche di attività culturale e di promozione in genere. Non solo, ma una piccola chicca, la figura della Stella Maris è una Madonna importante per Taranto e la sua storia non è conosciuta da tutti. Nel blog, all'interno degli articoli, ci sono degli articoli che ne narrano proprio la storia in modo che chi si avvicina all'Associazione capisca anche chi è la Stella Maris e quale figura importante riveste per i tarantini e i pescatori soprattutto. Non solo è importante per questo punto di vista, ma anche il blog servirà per illustrare le attività dello sportello Universo Donna, che ha l'importante funzione di supportare le donne che subiscono violenze sia nell'ambito familiare ma anche di mobbing, perché no nell'ambito lavorativo. Quindi nel blog saranno illustrati anche gli appuntamenti, tra cui convegni, dibattiti, corsi, attività varie dello sportello Universo Donna e che posso dire, invito quante più persone ad avvicinarsi in modo da conoscere le persone che fanno parte di questa associazione che è soprattutto fatta da profili umani non soltanto da esperti.